Ciao, sono Francesco, consulente vendita della concessionaria Biavai della sede di Maroc. È il momento di cambiare la tua auto? Ti trovi nel posto giusto. Puoi scegliere tra una vasta gamma di vetture Seat, Cupra e Volkswagen. Abbiamo a disposizione anche un parco usato, certificato e garantito di ogni marco, firmato da Svelta. Infine, per un servizio a 360 gradi, puoi trovare, qua da noi, l'officina autorizzata Morico, nostro partner dal 2020. Ci aspetto in via Cesanensia 71 a Marotta, a soli 3 minuti dall'uscita autostradale e a 2 minuti dal mare. A presto!